Benvenuti a questo nostro nuovo approfondimento su Lombardia Notizie Online. Siamo con l'assessore Barbara Mazzali, assessore con delega al turismo e con lei facciamo un po' una proiezione. Dopo i positivi dati relativi alla Pasqua, al Ponte di Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, ci si affaccia alla stagione primavera e stata. Assessore, quali sono le proposte che lei intende fare a chi ci segue ai Lombardi ma anche ai non Lombardi? Intanto la Lombardia non è riferibile solo ed esclusivamente ai giorni festivi. La Lombardia è tutta bella da visitare in qualsiasi fine settimana e non solo. Quindi io direi di guardarla a 360 gradi per tutti quelli che sono quei luoghi, spesso e volentieri, poco conosciuti, ma straordinariamente belli e pieni di eccellenze, che sono il vero valore aggiunto della nostra regione. Quindi io invito i nostri turisti che ci hanno dato una soddisfazione veramente eccezionale in questa sequenza di fine settimana festivi e quindi a continuare a percorrere i nostri borghi, i nostri borghi straordinari, la nostra Franciacorta piuttosto che il nostro oltrepo pavese. Io dico sempre, spesso noi facciamo Milano ma parliamo poco della Lombardia. In realtà vorrei lanciare anche qualcosa di molto simile al Fuori Milano perché poi le grandi eccellenze che fanno anche Grande Milano le troviamo in realtà nelle nostre città di provincia. Quindi da est a ovest noi troviamo le eccellenze enogastronomiche, troviamo i borghi più belli, troviamo anche, diciamo così, tutto quel sentiment e quei luoghi che ci emozionano e che ci regalano poi dei ricordi meravigliosi. A uno sportivo che meta indicherebbe? Beh, a uno sportivo oggi gli farei fare sicuramente l'oltrepo pavese, poco conosciuto ma veramente straordinario per chi ama il, diciamo così, la vacanza outdoor, quindi particolarmente delicato e gratificante per le famiglie perché ci sono luoghi di grande cultura, di grande bellezza ma soprattutto tantissimo verde. Anche in una zona tipo Mantova-Cremona per magari unire quello che può essere, diciamo così, una passeggiata o in bicicletta magari nel nostro Parco del Mincio, piuttosto che un intervallo culturale per andare a visitare il Museo del Violino a Cremona per assaggiare un pezzo di quel torrone straordinario per poi magari finire con una bella cena sui laghi di Mantova dove con un piatto di tortelli sicuramente si torna a casa con un ricordo incredibile. Lei ha preceduto l'altra domanda che era relativa a chi, coloro che apprezzano la buona tavola, il mangiare bene, il bere bene, mi ha preceduto va bene così, l'abbiamo detto. Grazie allora all'assessore Mazzali, quindi cultura, paesaggi, arte, letteratura, ci sono anche i parchi letterari, tanto sport, tanta vita all'aria aperta per questo weekend da trascorrere in Lombardia. Alla prossima!